Lo spettacolo amici di Weekend Dance continua, siamo a Ercolano, compleanno del The Owl, struttura bellissima, tanta gente e tanto divertimento, guardate il servizio. Questa sera festeggiamo il primo anno di un posto bellissimo che si chiama The Owl, sta a Ercolano e guardate un po' che bellezze questa sera per il compleanno. Nome, cognome, codice fiscale, età e perché è qui? De Martino Floriana, Domodosso, Rominalo, Roma, Firenze, Roma, Napoli, 79L, 42F839K. Perciò sei bella, sai tutto, sai. È il mio codice fiscale, se non sapevo quello. Che ciò mi dico, questa sera un bel compleanno in un posto fantastico, il nostro amico Catello. Un nostro grandissimo amico Catello, sì, siamo qua per stare insieme a lui per questa occasione, il primo anno di apertura di questo locale è fantastico, dovete venire perché se non venite vi perdete una cosa meravigliosa. E poi si incacchia pure, Louise, ma tu come stai? Io sono un benissimo, quando viene l'estate io risorgo, rinasco. Sono una meraviglia in questo posto, un posto di un amico per me e un fratello, il Daoul, la civetta, che porta bene. Il Daoul, esatto. Ma abbiamo anche un nostro amico che è francese, come t'appello? Touré, si chiama per Touré. Si chiama Touré e per l'occasione ha indossato degli abiti spettacolari, ci siamo anche abbinati. È vero. Chiedi come sta, se gli piace la festa questa sera. Come va? Ça va, très bien. Je travaille avec l'île l'eau. Dice che sta molto bene, che si è trovato in compagnia di splendide persone. Possiamo dire che è un outfit bellissimo, un completino, non della domenica sera, ma un completino per i grandi eventi, no? Oh, Touré, tu l'occasio, un bijou. Eh, buongiorno, merci beaucoup. Sotto gli auguri perché si spegne la prima candelina, ma ne spegnerai tantissime, oltre la prima. Sarà il mio piacere e innanzitutto grazie ancora per essere ritornati qui da noi. Erano due mesi o tre mesi fa, quindi ci siamo dati appuntamento e abbiamo innanzitutto la promessa. È una bellissima cosa rincontrarsi di nuovo tutti quanti qui. Ma non sei da solo, perché ci sono due amici e andiamo subito a conoscerli. Più che amici sono i pilastri di forza, i montanti di forza di questa organizzazione, il direttore Raffaele, che senza il suo ausilio di intervento non avremmo avuto modo di avere questo successo. Quindi Raffaele è l'altro? E l'Alessandro Perrino, che chi gestisce comunicazione è un figurante del posto. Non ci chiedere nulla, faccio solo presentato, fa tutto Catello. Abbiamo presentato Raffaele prima. Alessandro poi. Perfetto. Perché questa timidezza? Insomma, manifestiamo anche un po' di entusiasmo, di gioia per questa prima candelina al The Owl. Un sacco di sacrifici durante l'anno, però grazie al nostro capo Catello ce l'abbiamo riuscito a fare tutto. E meno male, ci siete riusciti Catello, meno che insomma... Si dà da fare, si vede anche in questa struttura, voglio dire. È una struttura molto bella, però. È una struttura molto bella, rispecchia la sua identità, uno splendore. Insomma, sono proprio seragrafi, la sedia? Assolutamente no. E grazie alla loro grinta, a loro credere in questa situazione, che riesce sempre giorno dopo giorno, sempre più bello e sempre più alla grande. Facciamo gli auguri a Catello e al The Owl. Auguri Catello per questo tuo primo anno, che il Signore ti possa benedire sempre, perché se è una persona che fa del bene, merita questo e tanto altro. Io lo adoro. Andiamo dall'altra sexy. Un augurio a Catello per questa prima candelina che spegne proprio oggi. Auguri Catello! Basta. Questo è tutto? Una candelina, fai un anno, te li porti proprio una chiave, un anno non ci sembra. Auguri Catello. Che bello avere questi amici però. Grazie a Luisa e a Floriana, amiche di sempre, amiche di infanzia, amiche di una vita. Veramente grazie a tutti quanti avete creduto e continuate a credere in questo nostro progetto e in questa nostra immensa ambizione. Grazie a tutti quanti, grazie di cuore. Continuiamo a guardare le immagini dal The Owl, qui The Owl, Ercolano. Bacio a Catello di nuovo, dai diamoglielo come si deve, dai, vai vai. Amici di Weekendance è sicuramente la parte migliore di questa serata, il gioiello del compleanno The Owl, a Ercolano e si chiama Anna. Mi vuoi troppo bene? Sei la parte più bella del locale. Grazie, grazie. Ogni anno spegnerai una candelina anche tu. Sarà un onore per me. Io diventerò più anziano e tu diventerai più bella. No, ma dai, grazie. E quello che auguriamo al The Owl ogni anno, ogni anno un successo che possano seguire cento e altri mille, meglio di questa serata. Un bacione a Catello e al The Owl. Ma non seguite lei, seguite il The Owl, mi raccomo a lei no, eh, immagini. A Catello e a Catello e a Catello. Mama, oh, 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 oh. Didn't mean to make you cry. If I know back again this time tomorrow. Oh happy day Oh happy day Oh happy day Oh when my Jesus born Oh when my Jesus born Oh when my Jesus born He washed my sins away Oh happy day un compleanno fantastico ad Aul, ad Ercolano il nostro amico Catello, complimenti per tutto complimenti anche a voi per la performance e per il vostro modo di essere ti sei divertito anche tu e tantissimi tuoi amici si sono divertiti, più di quanto non avrei potuto immaginare è la versione nuova delle Bananama, è un disco degli anni 70 molto bello Venus dedicato a tutte le donne che sono venere stasera qui ad Aul movimento il prossimo appuntamento con Weekend Dance al Daul è il 16 di settembre ed è, che giorno è? è un venerdì un venerdì la tappa di Ragazza Weekend Dance la faremo in questo scenario bellissimo quindi tutte le ragazze che volessero partecipare l'iscrizione è gratuita basta contattarle Daul o Catello iscriversi e quella sera sarete protagonisti con noi serenamente, vi aspettiamo in tante e fateci vedere quello che siete in grado di fare ancora auguri Catello immensamente grazie a voi, vi aspettiamo numerose siamo qui al Daul per la prossima tappa grazie ancora la tv degli eventi